Amici di Android Blog, video girato in Ultra HD da LG G3, stiamo già camminando per vedere l'efficacia dello stabilizzatore ottico, andiamo a vedere se è possibile fare uno zoom anche a questa risoluzione, sì, fino a 8x, torniamo indietro, avviciniamoci al nostro vaso di fiori per vedere la messa a fuoco, messa a fuoco che arriva con un filo di ritardo, spostiamoci, aspettiamo ancora la messa a fuoco, eccola qua, movimento veloce verso destra e verso sinistra, adesso proviamo un controsole, ecco fatto, di nuovo a luci normali per questo video girato in Ultra HD dalla camera da 13 megapixel di LG G3